Migliorare la viabilità cittadina promuovendo l'utilizzo della bici a pedalata assistita, un mezzo di trasporto che riduce l'inquinamento acustico e atmosferico dell'ambiente. E con questo intento, che è stato presentato nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, è Comuoviti, un'iniziativa promossa dall'Associazione Biologico per raccogliere consensi da parte dei cittadini nisseni e sencaterdesi ad acquistare con uno sconto fino al 50% del prezzo base di 500-600 euro una bicicletta a pedalata assistita. un mezzo di trasporto che consente al conducente di poter raggiungere qualsiasi punto della città non solo con la propria forza fisica ma anche grazie ad un motore elettrico alimentato da batterie ricaricabili, capace di superare anche le strade in salita. L'ambiente è proprio l'angolo giusto della bicicletta. Infatti noi come FederCiclismo stiamo aderendo a questa iniziativa in quanto la bicicletta fa da padrone. Cioè l'elettricità viene semplicemente di un aiuto del 25%, diciamo, del mezzo. Ecco perché noi ci stiamo adoperando per svolgere l'attività tecnica di questa iniziativa. Proporremo il gruppo di acquisto di bici elettriche. È il primo che si crea in Caltanissetta e anche credo in provincia. Pensare a una mobilità alternativa e sostenibile. Si parla tanto di inquinamento, inquinamento acustico, inquinamento atmosferico. Ecco questa nostra proposta va a favore dell'abbattimento degli inquinamenti sia atmosferici che acustici. Sicuramente i vantaggi di una bici a pedalata assistita sono i costi. Perché un motorino serve fargli l'assicurazione, c'è da pagare il bollo e c'è da mettergli la benzina. Senza poi considerare l'aspetto più importante, cioè l'aspetto ecologico. La bici non inquina e se mi permetti, comunque permetta alla persona di star bene. Perché comunque ti devi muovere, comunque qualcosina devi pedalare. È possibile aderire al gruppo d'acquisto consultando il sito www.gasbocl.it oppure rivolgendosi all'ufficio URP del comune di Caltanissetta o alla segreteria del comune di San Cataldo. La nostra città è perfettamente percorribile in bici a pedalata assistita. E quindi immagino che a breve, anche grazie alla presenza delle rastrelliere qui in centro storico, sarà possibile recarsi in centro storico con le biciclette. Stiamo provvedendo a organizzare la prima pista ciclabile nella zona alta della città, quindi nella zona del quartiere Balate-Pincelli. Sarà il primo intervento, a cui seguirà poi un secondo intervento, di organizzazione di un percorso protetto dalle parti alte della città verso il centro storico.